Il cardinale Bernard Lowe, il religioso che non denunciò i preti pedofili nell'ambito del caso Spotlight nel 2002, è morto all'alba del 20 dicembre 2017 dopo una lunga malattia. La notizia è stata resa nota dalla stessa sala stampa vaticana. Lowe, 76 anni, è stato arcivescovo metropolita di Boston dall'11 gennaio del 1984 al 13 dicembre del 2002, quando è stato costretto a dimettersi proprio in seguito al caso Spotlight. Lowe si trovò al centro dello scandalo dei preti pedofili per non aver denunciato pubblicamente i sacerdoti coinvolti. Darci, vescovo di Boston, fu protagonista dello scandalo degli abusi sessuali sui minori che esplosa nell'Arci di Ocesi, grazie all'inchiesta giornalistica del Boston Globe al centro del film premio Oscar Il Caso Spotlight. Quello di Boston tra il 2001 e il 2002 fu il primo scandalo che rivelò il problema della pedofilia del clero nella chiesa. Messo sotto accusa negli Stati Uniti, il cardinale Lowe fu nominato da Giovanni Paolo II arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, città dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita e dove è morto. Il suo successore a Boston, il cardinale Sean O'Malley, è stato nominato da Papa Francesco a inizio pontificato a capo della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che ha appena concluso senza essere rinnovata il suo primo triennio di vita.